Alcina No, devi aprire il sacchetto e prendere solo la bavaglia Non ha la farfalla? La farfalla Eccola qua, la pera Solo la bavaglia Allora, questo qua devi metterlo qua Una cosa per voi La pera E' un po' lenta Beh, perché dei piccoli è il primo giorno Ok Cesare, non essere No, quello no Ok Adesso andate in bagno Lo zainetto Lo zainetto Bene E' un po' il bicchiere Perchè Non ti serve Tu non lo mani E' lì Andiamo No No, c'è una bambina Va di qua Lo bambino vanno da questa parte Trova il bicchiere Il bicchiere te lo compro oggi Ti porto un bel bicchiere rosa Però ecco Non prendiamo questo Perchè Se no ce ne è già uno Non prendiamo mini Che ce ne sono già tre Ne prendiamo uno diverso Ok Ti attacco questa qua Ricordati che la tua C'è scritto Clara Quando devi fare la pipì Chiami C'è scritto C'è Clara Possiamo andare in classe Guarda che bello Che bello Per fare la cacca a la pipì Vieni qua Anche per la parte Le mani Ma ma ce l'ha dicendo Lei queste qua No? Queste qua Sono una parte delle bambine Sono di tutte le bambine Invece i bambini Vanno da questo lato qua Vedi E le bambini I bambini Vanno a cacca a la pipì Da questa parte Ok? Va bene E guarda mamma Questo qui C'ha Adesso dobbiamo andare No? Adesso ti vai in classe Vieni Ok Ciao Stiamo filmando Ciao 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 Ciao